Sì c'è già un beto guadagnato E si può rileggere un po' in questo senso anche il cammino del portogallo Allora più di due anni fa Simone non può battere la posizione in questo modo al novantesimo minuto Veramente incredibile la qualità di questo giocatore Però c'è la dire che anche tu Polantus